Dal Vangelo secondo Matteo In quel tempo Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse Signore, se mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a sette volte? E Gesù gli rispose Non ti dico fino a sette volte, ma fino a settanta volte sette Per questo il Regno dei Cieli è simile a un re che volle regolare i conti con i suoi servi Aveva cominciato a regolare i conti quando gli fu presentato un tale Che gli doveva diecimila talenti Poiché costui non era in grado di restituire Il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, i figli e quanto possedeva E così saldassi il debito Allora il servo prostrato a terra lo supplicava dicendo Abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa Il padrone ebbe compassione di quel servo Lo lasciò andare e gli condonò il debito Appena uscito quel servo trovò uno dei suoi compagni che gli doveva cento denari Lo prese per il collo e lo soffocava dicendo Restituisci quello che devi Il suo compagno prostrato a terra lo pregava dicendo Abbi pazienza con me e ti restituirò Ma egli non volle Andò e lo fece gettare in prigione Fino a che non avesse pagato il debito Visto quello che accadeva I suoi compagni furono molto dispiaciuti E andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse Servo malvagio io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno così come io ho avuto pietà di te Sdegnato il padrone lo diede in mano agli aguzzini Finché non avesse restituito tutto il dovuto Così anche il Padre mio celeste farà con voi se non perdonerete di cuore ciascuno al proprio fratello Pagina di Vangelo facilissima da spiegare Difficilissima da vivere Pietro torna sulla scena È bello vedere come Pietro interloquisce frequentemente con Gesù Gesù a volte lo improvera Vi ricordate per esempio quando Pietro è sulla barca in tempesta Vede avanzare Gesù Sembra quasi un fantasma E allora Pietro dice se sei tu Comandami di camminare sull'acqua e venire da te E Gesù dice vieni E Pietro si incammina sull'acqua Poi quando si rende conto che sotto di lui c'è l'abisso Ah, signore, salvami E poi vi ricordate anche quando a Cesarea di Filippo Gesù fa quell'inchiesta Cosa dice la gente di me? Poi aggiunge E voi? Cosa pensate di me? E Pietro ha quella professione di fede stupenda Tu sei il Cristo, il Messia, il figlio del Dio vivente E da lì a poco appena Gesù spiega in che modo lui interpreta il messianismo E cioè sarà una strada di croce, di sofferenza e poi di resurrezione Ecco che Pietro toppa un'altra volta Perché dice no, questo non ti accadrà mai E Gesù lo caccia dietro di lui Va de retro, Satana Mi sei di scandalo E adesso ritroviamo Pietro che dopo il discorso di Gesù Sull'armonia che deve esserci nella comunità dei discepoli Pone il caso, diciamo, della cifra del perdono Quante volte io devo perdonare mio fratello Pietro conosce molto bene, diciamo, le indicazioni rabbiniche I protocolli, diciamo così, di pacificazione E sa che si insegna che bisogna perdonare quattro volte Se uno torna a offenderti, a sbagliare Quattro volte lo devi perdonare, dai E Pietro, come dire, io ormai sono alla scuola di Gesù Ho capito che bisogna essere buoni, tolleranti, perdonare di più E allora azzarda la cifra Devo perdonare sette volte? E anche qui Gesù lo spiazza Perché gli dice non sette volte Ma settanta volte sette Che è come dire, è un ebraismo Che è come dire sempre Qui Gesù cita un canto Un canto selvaggio, il canto di Lamech Lamech è uno dei discendenti di Caino Il quale dice alle sue mogli Che chi sazzarda a far qualcosa contro di lui Lamech gli restituirà Settanta volte il male che gli è stato fatto Diciamo la legge della giungla A cui poi pian piano si sostituirà la legge del taglione Mi hai fatto male un occhio? Bene, io ti colpisco un occhio Non di più Hai fatto male alla mia mano destra? Bene, io me la prendo con la tua mano destra Eccetera, eccetera La legge del taglione Ma si arriverà poi a un progressivo miglioramento Delle relazioni con le mediazioni Con le forme, diciamo così Di patrocinio I tribunali per intendersi insomma Ma certo quando arriva Gesù Dà a questo tema Uno sfondo impensato Impensabile direi Il perdono La totalità del perdono Rileggevo proprio in questi giorni Il catechismo della CEI Forse molti non lo conoscono Perché è stato per così dire Scavalcato, superato Dal catechismo della Chiesa Cattolica Ma c'è un capitolo molto bello Un capitolo, un paragrafo interessante Con un titolo che mi ha un po' colpito Dice abolire la guerra Ho provato a leggere quella paginetta E effettivamente dice che l'umanità è riuscita Con appunto con le mediazioni Con i tribunali e così Ad abolire a volte le vendette Per cui una colpa Un errore che io ho Verso un'altra persona Può essere ricomposto Diciamo in seduta di tribunale E quindi non con la vendetta Non con il fare il male Ma con l'intendersi per modo di dire Così anche nel Medioevo E successivamente Le tensioni fra i signorotti I liberi comuni Così si arrivò a delle forme di mediazione Superando l'istinto all'aggressività Alla guerra Sarebbe molto bello però Che anche fra Stato e Stato Si trovassero delle forme di mediazione Appunto quella abolire la guerra Che risolve per così dire La conflittualità In altro modo In modo alternativo Comunque ciò che risolve radicalmente I conflitti è sicuramente il perdono Questo è l'insegnamento del Signore E lo fa attraverso una parabola Che abbiamo letto tante volte Si tratta di tre quadri Primo quadro C'è un re Potentissimo Che a un certo punto Sente il bisogno di Vedere un po' La situazione Per quanto riguarda i rapporti Con i suoi vassalli Con i suoi dipendenti Con i suoi ministri E vede che ce n'è uno Che ha un debito enorme Un debito spropositato E se leggete le Esegesi Dedicano pagine A spiegare le cifre Che adopera il Vangelo Qui a questo punto Diecimila talenti Ma quanto vale un talento Ha un valore enorme Diecimila talenti Potete immaginare E c'è tutto Una disquisizione Attraverso anche quello Attraverso quello che Sull'argomento Ha scritto Flavio Giuseppe Uno scrittore Dell'epoca di Gesù Poco dopo Ma a noi non interessa Fare le equivalenze Qui ci interessa Sottolineare Che il debito Che quell'uomo ha Verso il re È enorme Incalcolabile E che la sua Proposta Di restituire Quel debito È praticamente Risibile E allora Il re Lo fa rinchiudere In prigione Gli sequestra Tutti i beni che ha Lui, la moglie I figli Eccetera E allora Il quadro si chiude Con questo debitore Che si prostra Si inginocchia E prega Il suo Kiri e Leison Signore Abbi pazienza Signore Pietà Io penso che Quel debitore Pregasse sinceramente Anche perché È sotto lo spavento Di una punizione Terribile Secondo quadro Dopo che viene perdonato A sua volta Incontra Un Un debitore Che gli doveva Faccio anch'io Un'equivalenza Per dire Mettiamo un pieno Di benzina E lo prende Per il collo Lo soffoca E pretende Di essere Risarcito E mi immagino Come si sarà Inalberato E beh Allora oggi Se noi Cominciamo a Lasciare andare Le cose Ma qui la società Doveva finire Bisogna essere Rigorosi Ma insomma E anche questo Suo amico Conservo Diciamo così Si prostra A terra Preghi il suo Kiri e Leison E non viene perdonato Terzo quadro I colleghi Assistono A questa scena E non ce la fanno A trattenersi E vanno dal re Lo denunciano E il re è indignato Attenzione bene Non è che Questo re Ha due volti Il primo Il volto misericordioso Che condona Un debito Spropositato E questa volta Invece Non perdona più Come mai Cambia Cambia Logica Cambia Il suo Modo di pensare No 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 Qui È evidente Che è un Modo letterario Dell'Evangelista Matteo Per sottolineare Per sottolineare Che bisogna Perdonare Perdonati Dobbiamo Perdonare A nostra volta Concludo Con una Suggestione Io penso Che Nessuno Fa il male Per fare il male In genere Per lo meno E che Chi Fa il male Chi pecca Contro il suo fratello Probabilmente Ha un disagio Dentro di lui Allora il perdono Consiste anche Proprio nel Prendere il fratello Nel suo disagio Nella sua difficoltà In conclusione Gesù dice Che il perdono È essenziale Nelle nostre relazioni E siccome E siccome siamo Dentro al discorso Ecclesiastico Lui pensa Che nella comunità Cristiana Il perdono Sia come Per così dire Il cemento Che tiene unita La comunità E poi E poi Considerare molto Come noi Siamo stati perdonati Tutta la vita Di Gesù Non è altro Che un rincorrerci Per offrirci Il suo perdono E c'è un'esperienza Che di tanto in tanto È bene Che ci proponiamo Ed è quello Della confessione Proprio Per gustare Il perdono Che ci dà Dio Lui non guarda Le cifre Naturalmente È un perdono Incondizionato Ed è anche Quello che noi Ci mettiamo davanti Ogni volta Che recitiamo Il Padre Nostro Rimetti a noi Le nostre colpe Come noi Le rimettiamo Ai nostri debitori E a questo proposito Mi piacerebbe Leggervi Una testimonianza Che ho raccolto E che ho trascritto Una volta In una mia lettera E l'esperienza Di come due sposi Vivano La confessione Siamo sposati Da alcuni anni E c'è tra noi Tanta confidenza E complicità Ma c'è un luogo E virgolettato In cui Ognuno di noi Si presenta solo È il sacramento Della confessione Spesso ci prepariamo Insieme A riceverlo Pensando Alle nostre mancanze Agli errori E a ciò Che possiamo Cercare di migliorare Del nostro carattere E delle nostre Inclinazioni Il matrimonio È una delle vie Di santità Da percorrere insieme Aiutandosi In un l'altro Ci salutiamo Prima del momento In cui ognuno Di noi È solo Davanti al sacerdote Sotto quel cono Di grazia Che è la confessione A rientro a casa Guardandoci negli occhi Ci vediamo diversi Nuovi Pieni di gratitudine Per il perdono ricevuto Desiderosi di perdonarci A vicenda Con il cuore Traboccante Di un amore nuovo Più puro Più profondo Più grande È l'amore del Signore Che ricominciamo A donarci L'un l'altro Con gioia nuova La confessione Ci fa nuovi Ogni volta Ho letto la testimonianza Di questi due sposi Ma faccio notare Che le riprese Abbiamo voluto Questa volta Fossero proprio Nel cuore del paese Dove c'è la scuola Proprio ieri Questa gradinata Che adesso vedete Vuota Era piena Di ragazzini Che andavano Venivano E poi il paese La tenda Del mercato Insomma Il perdono È qualche cosa Che non solo Ci fa nuovi noi Perdonati Perdoniamo Ma anche Crea Rapporti nuovi Nella società Con questo pensiero Vi saluto Vi auguro Una buona settimana Ciao 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 Grazie a tutti.